Nelly regista in certe di una commedia opera prima che ha avuto successo al festival Los Angeles Italia, racconta il sogno americano in salsa italiana. Ho voluto raccontare, oltre alla storia del sogno americano che coinvolge credo tutti noi, a prescindere dall'America, ho voluto proprio raccontare la capacità di ognuno di trovare dentro di noi la possibilità di rialzarsi da qualsiasi sconfitto.